Ciao a tutti, vediamo 5 segnali che hai accanto una persona malvagia. Prima di affrontare questo tema, però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo un po' l'appuntamento di Torino, venerdì 31 gennaio 2020, alle 20.45, il mio seminario dal titolo Fai volare la tua autostima. E poi Milano, domenica 1 marzo 9.30.19, autostima e seduzione, in amore e nel lavoro. E il riferimento è il 333 15 11 703. Bene, e adesso veniamo al dunque, diciamo così. Quindi veniamo, anzi no, ti ricordo, gli appuntamenti di Torino e gli appuntamenti, la possibilità di fare degli abbonamenti sul canale Massimo Terramasco per iniziare un percorso di crescita personale e sul canale Felicità Benessere per sostenere il progetto live. Vai a vedere nella home page dei due canali, a fianco al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati, ti puoi abbonare e troverai, diciamo, sicuramente la possibilità di fare l'abbonamento che preferisci. E veniamo al tema. 5 segnali per capire che hai davanti una persona malvagia. Intanto è importante capire chi intendiamo, no, con una persona malvagia, perché poi se abbiamo accanto una persona malvagia, questo sicuramente non è che ci fa un grande piacere, possiamo dire, no? Cioè le persone malvagie sono sempre persone che in qualche modo rovinano un po' la tua vita, ti stanno a, diciamo, a rovinare la vita. Le persone malvagie sono quelle che ci inducono, diciamo così, sono quelle che ci inducono sofferenza fondamentalmente, magari anche deliberatamente, oppure non deliberatamente, ma comunque hanno un'intenzione negativa nei nostri confronti. Allora, quindi è importante riconoscerle. Allora, la prima cosa è la manipolazione e la capacità di generare una visione di sorta della realtà. Quale interagimento con una persona? Ti senti sempre qualcosa di sbagliato? Ti fa intendere che, diciamo, qualcosa in te non va? che tende a farti vivere un po' di sensi di colpa, tirando fuori magari dei tuoi aspetti negativi e non valorizzando quelli positivi. Questo è, diciamo, un segnale forte, un segnale chiaro che comunque ha a che fare con una persona malvagia. Un'altra caratteristica è quella che tende a ometterti delle cose per te importanti, delle cose che per te potrebbero essere veramente importanti, vengono messe e tu non hai più possibilità di, diciamo, prendere le decisioni usando il liber arbitro. Oltretutto, poi, le persone malvagie, oltre a manipolare, perché manipolano sempre le situazioni, omettendo delle cose, talvolta dicendo bugie, talvolta seminando zizzagne interpresenti. Ecco, le persone che continuano sempre a seminare zizzagne sono sicuramente persone malvagie. Poi agiscono in modo cinico. Ecco, il cinismo è un'altra caratteristica. Il cinismo sono persone, le persone malvagie, che non hanno nessun rimorso per quello che fanno, non hanno empatia per le persone, un'assenza totale di rimorso. Quindi, anzi, sembra che godono quando le cose agli altri vanno male, quando le cose ti vanno male. E questo è un altro indizio, è un altro indizio importante. Un altro indizio che utilizzano spesso le persone malvagie è la, come dire, essere diffidenti verso tutti, diffidare verso tutti e tutti. Perché se tu metti assieme, diciamo così, tutte queste situazioni, beh, ti puoi rendere conto che il fatto di diffidare non è una legittima difesa, ma è il credere che tutti gli altri ce l'abbiano con loro, quindi tendono a essere una sindrome paranoica. E un'altra caratteristica che è meno definibile, ma sicuramente molto importante, che caratterizza le persone che per te sono malvagie, è che quando interagisci con queste persone ti senti svuotata o svuotato di energia, senti di aver perso, diciamo, dell'energia, non ti senti più bene fondamentalmente. Ecco, quindi la percezione è che come ti avessero succhiato delle energie, tolto delle energie. Questa è un'altra caratteristica che ti fa capire che hai a che fare con una persona malvagia. Ora, se ti capita appunto di vivere una situazione, di stare con una persona che ha queste caratteristiche, sappi che devi chiudere la relazione, devi trovare la forza di chiudere, perché altrimenti se tu non riuscirai a chiudere la situazione, resterai bloccato e non noterai più nessun beneficio, non noterai più nessun risultato positivo nella tua vita, inizierai a nutrirti di sofferenze. Perché la sofferenza, come dire, esiste nel momento in cui noi non siamo in grado di darci piacere. Quindi, mi raccomando, chiudi subito una relazione quando capisci che ci sono queste caratteristiche e che quindi è accanto a una persona malvagia. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo l'appuntamento di Torino, venerdì 31 gennaio 2020, ore 20.45, al seminario Fai volare la tua autostima. Poi Milano, domenica 1 marzo, 9.30, 19, autostima e seduzione in amore nel lavoro. Riferimento 333 15 11 703. Bene, per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo e vatti abbonare al canale Massimo Tramasco e al canale Felicità e Benessere. Ciao a tutti.